L'ora nona fu la più lunga e terribile, silenzio squarciato dalle ultime parole di Cristo. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ancora, Padre, nelle Tue mani rimetto il mio spirito. Infine, tutto è compiuto. Poi, chinato il capo, spirò. E venne l'ora della lancia che gli aprì il costato, dal quale subito uscì sangue ed acqua. Poi l'ora della deposizione, quando Giuseppe d'Arimatea tolse il corpo di Gesù dalla croce. Fu l'ora del Tuo dolore, oh Maria, spada che trapassa l'anima, contemplazione attonita del figlio morto, deposto tra le Tue braccia. Per noi sia l'ora in cui tacciamo con Te, volgendo gli occhi a colui che hanno trafitto. Grazie. 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 Grazie.